Eccoci qui con Fabrizio Romondini, è stato assente in questa finale ma è stato un grande trascinatore della Totti Sporting Club durante questa stagione. Da fuori come hai visto la partita? Beh da fuori si soffre sempre un po' di più perché vorresti dare un'aiuto ai compagni, però credo che tutti i ragazzi e i soci in campo hanno dato il massimo, hanno sicuramente disputato una grossa gara, poi naturalmente c'è quel valore in più che è Francesco che in ogni partita ci ha donato queste perle e grazie a lui, grazie alla qualità di Antonio siamo riusciti a conquistare questa vittoria, però penso che sia meritata per tutto il percorso. Voglio fare un ringraziamento al mister sicuramente, ma soprattutto a tutti i ragazzi che si sono messi a disposizione e che ci hanno portato a giocare questa finale. Nonostante comunque l'inizio di stagione è stato difficile, poi vi siete ritrovati, vi aspettavate addirittura di centrare un double, Scudetto e Coppa Italia? Beh sicuramente le aspettative non erano queste, però abbiamo anche peccato un po' perché all'inizio non ci conoscevamo, magari dovevamo amalgamare un po' la squadra, questo è stato bravo il mister e poi dopo piano piano ci siamo conosciuti, abbiamo creato una bella atmosfera, un bel gruppo e poi ripeto la ciliegina la mette sempre lui, sempre Francesco perché è un giocatore eccezionale che può cambiare la partita e ne ha cambiate tantissime in qualsiasi momento della gara. Grazie mille a Fabrizio Romondini.